Partiranno ad anno nuovo interventi importanti sul territorio rosetano. Parliamo ovviamente della situazione relativa all'erosione costiera nel tratto nord di Rosetogli-Abruzzo e soprattutto nel tratto più critico, quello a sud ovviamente del territorio rosetano. Questo per quanto riguarda la realizzazione delle scogliere. Sì, come amministrazione sin da subito in sinergia con Regione Abruzzo e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare il sottosegretario Umberto D'Annuntis che ha a cuore il nostro territorio e che costantemente tramite il suo ruolo in Regione consente alla nostra città di intercettare diversi finanziamenti. Quelli sull'erosione della nostra costa sono dei finanziamenti che Regione Abruzzo andrà a dedicare nella parte nord del nostro litorale e nella parte sud. Quindi prossimamente vedremo di organizzare un incontro in Regione appunto per indicare una data approssimativa per iniziare i lavori. Partiranno anche i cinque interventi del rischio idraulico-idrogeologico. Ovviamente questo dipende non più dall'ente comune Roseto e Gliabruzzi ma dalla centrale unica di committenza che fa capo all'Unione dei Comuni per l'espletamento delle gare e per l'affidamento quindi dei lavori. Interessano... andremo a dare una priorità a Costelanciano, via Pagliaccetti per quanto riguarda la zona di Colonia, avremo via Roma, il lungomare via Roma con la pedonalizzazione e la regimentazione delle acque contro appunto gli allagamenti. Avremo diversi interventi anche nella località San Giovanni.